Antonino Spinaldese a ritrova l'ex compagno di Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e condividere una foto in compagnia di una ragazza che con la sua ex condivide il L'ex compagno di Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e condividere una foto in compagnia di una ragazza che con la sua ex condivide il Proprio nello studio milanese nel quale lavora i due si sarebbero conosciuti, nel 2021, infatti, Spinaldese avrebbe scelto proprio Proprio nello studio milanese nel quale lavora i due si sarebbero conosciuti, nel 2021, infatti, Spinaldese avrebbe scelto proprio Edward come studio dove fare un L'ex compagno di Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto e condividere una foto in compagnia di una ragazza che con la sua ex condivide il Già da gennaio si parlava di un possibile flirt tra i due, ma oggi è stato Antonino a confermare il legame condividendo il primo Ainhoa è originaria di Genova e da 25 ha avuto un passato come modella e infatti ha posato per alcuni brand di abbigliamento Ainhoa Foti Rodriguez su Instagram è molto attiva, è seguita da 63.700 follower e oltre a condividere scatti personali Mostra negli scatti Antonino ha mostrato il loro fine settimana in Svizzera tra pranzi all'aria aperta e chiara